Mister, una vittoria per la sua squadra, 2-1, una vittoria e a rimonte, iniziamo dalle sue sensazioni. Insomma, innanzitutto una vittoria importantissima e dir poco, tenuta in condizioni secondo me peggiori, stati sotto su un episodio, su una palla nostra uscita male, poi si è stati bene determinati il secondo tempo, e da me è arrivato, mi ha portato a casa una vittoria, ripeto che non sono solo tre punti, sono molti di più dal punto di vista della determinazione e della voglia di crederci. E se come tutto sommato, tutto sommato anche in realtà, perché se non abbiamo rischiato niente, e quindi, ripeto, una vittoria importante contro una squadra che comunque ci ha messo in difficoltà, sono avuti prima o quarto d'ora, dove noi abbiamo iniziato un po' titubanti. Ecco, le chiedo una battuta anche su questa colonnese, la colonnese di Mister Porrini, come l'ha vista in campo? La colonnese è una squadra che lotterà per ogni partita, è una squadra che lotta con noi per la salvezza, ma io faccio già fatica a capire i miei giocatori, quindi la giudizio sulla squadra avversaria è sempre comunque antipatico, e non la faccio mai in maniera lucida. Quello che importa è sapere che i miei giocatori hanno reagito in un momento difficile, e abbiamo fatto una vittoria, come non me, meritata e tutto sommato giusta. Una vittoria appunto per voi fondamentale, siete arrivati a Cologno con un punto? In sei partite. In sei partite. Quindi anche i due partiti di Coppa Italia, senza mai vittorie, è chiaro che c'era una cosa troppo importante per noi oggi, fare punti, e poi secondo tempo non ci siamo accontentati, una volta che ripartivamo potrebbero essere pericolosi, e quindi abbiamo vinto meravigliatamente, contro, ripeto, una squadra che qua sarà difficile vincere.